Un corso è di 50 ore, per la verità questo è stato uno degli argomenti un po' più controversi perché gli argomenti sono tantissimi, avrebbe voglia di darli tutti, c'è la parte della modellazione grafica tridimensionale perché si parte sempre da un modello grafico tridimensionale per realizzare poi il suo equivalente dal vero, diciamo l'oggetto vero e proprio. Il corso dura 50 ore, è sostanzialmente diviso in due parti, una parte più teorica che si svolgerà a Cagli nella sede dell'Unione Montana e una parte considerevole perché appunto la metà del corso si svolgerà da vecchio dove ci sarà dedicato un'ampia quantità di esempi applicativi, tanto è vero che è stato montato presso i locali dove si svolgono queste esercitazioni un parco macchine di tutto rispetto, macchine che possono stare sopra un tavolo, una scrivania, però sono già sufficienti per fornire anche ai semplici curiosi, non solo agli addetti ai lavori, per fornire un'idea molto concreta di quello che si farà. A chi è aperto il corso, l'Unione ha inteso aprirlo il più possibile, perché? Perché fare un corso per gli addetti ai lavori bisognava probabilmente dimensionarlo anche di contenuti più specifici, però la questione della stampa 3D è talmente trasversale che il corso è stato dedicato a chiunque abbia una curiosità, non c'è neanche un limite di età, tanto è vero che basta avere più di 18 anni. È un'iniziativa di carattere sperimentale perché non si ha la pretesa di fornire un'istruzione, un inquadramento di carattere generale e completo, però è rivolto sia alle imprese, sia ai neofiti, sia a coloro che semplicemente hanno una curiosità nel settore e quindi c'è la possibilità di introdursi in un mondo che magari non nasce oggi, ma che ha delle continue applicazioni, evoluzioni, possibilità di spaziare in tanti settori e quindi si vuole dare questo spunto perché noi crediamo soprattutto, lo diciamo tante volte quasi come slogan, che il nostro prodotto più tipico siano effettivamente le persone e quindi dalle persone nascono poi le idee, le iniziative, dotarsi di strumenti e quindi di insegnamenti, di elementi di istruzione ancorché, ripeto, a carattere sperimentale riteniamo che sia una cosa molto utile, per cui come Comune di Apecchio ringrazio vivamente i colleghi sindaci che hanno colto e raccolto questa nostra proposta trasformandola in attività concreta, il Presidente dell'Unione Montana Alberto Alessandri. Adesso ci attendiamo che ci sia un riscontro, è ovvio che non è un argomento di immediata percezione, però siamo sicuri di andare nella direzione giusta, almeno quanto alle proposte.